non sai come piscerò ecco poi e poi io ieri ero a scuola c'era una ragazza di prima che cosa e di scelgare e di scelgare a scuola e di scelgare e di scuola questa ieri mi ha detto intanto ha raccontato tutta la scelgare cosa era un squelgare ma non glielo ho detto la scelgare e quello che ho fatto è un po' di scelgare era di calcio e doveva dire tutta la sua casa che mi ha capito e vabbè allora e quello di più mezzo Poi mi fa essere una male duffata perché ti metti l'oscuro perché mi ignori e stai con l'Andrea Ma te che cavo e te ne frega te, io sto con l'Andrea, ho un mio amico Sì Sì, siamo amici, sì, ma non te ne devi freghere a te, scusami Io mi cavo a sapere cosa è Io devo fare un po' in prima persona che non mi ha mai 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 Sì, minimamente auspissi l'oscuro Andrea 1 e interno Andrea 2 Andrea 2 Andrea 1, 2, 3, 3, 4, 3, 5 Io mi consiglio perché Andrea è mio Non so cosa 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 AssOf того che non rimedi per te E poi martedì o non dì, era domenica, però noi stavamo sentito l'importanza, il corretto e il corretto, io no, e lui no, sì. Il corretto, lo che fa, magari lì, spiegare la forbñita, perché il corretto e voga di pensare che non c'èobのは di delta con il torre e poi le posiziate meglio verdieri, e quindi si dicebene anche se spogl Quality, per conclusion, scanto in picosso, va? Allora, non ci sono un po' di più, non ci sono un po' di più. Sì, è un po' di solito di riponire, sono mia preparati a fare, quindi è bella di noi. Chi del bimba, la mia? No, ma tu è bella, ho scoperto che mi sono andato a volerci. Non è, non è come, non è una buona naturale. Aiuto io, cazzo io, ma... Vieni a un po' bencine... Vieni, vieni... P человечco, butti... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.